Salve a tutti, in questo video tutorial vedremo come si crea un effetto di reverse echo. Cos'è il reverse echo? Allora, quando voi ascoltate tanti brani EDM, all'inizio del cantato ci può essere un inizio che non è proprio il cantato stesso, ma è un echo usato su un sample al contrario. E viene fuori una cosa abbastanza carina. Io l'ho già creato in un mio brano, quindi useremo questo mio brano per farvi sentire il reverse echo e come si crea il reverse echo. Non uso brani famosi per evitare problemi di copyright. Allora, sentiamo l'inizio del brano e capirete qual è il reverse echo. Allora, avete sentito l'inizio del brano che c'era quel... Quello è reverse echo, esattamente questo. Ve lo metto da solo. Ok, questo è il reverse echo che viene utilizzato nei brani EDM. Per crearlo non è che si cercano i sample e il reverse echo e si mettono su, perché il cantato è il cantato proprio del cantante e bisogna creare il reverse echo che sia del cantante. Allora, come avete sentito, in questo reverse echo il cantante dice EEEE. Quindi devo semplicemente nel cantato, qui, andare in cerca di un punto dove il cantante dice EEEE. Ok, avete sentito, ho beccato subito il punto. Ovviamente me l'avevo preparato prima. qua dice EEEE, addirittura dice EEEE, EEEE, c'è un finale con la I, ma dopo lo toglieremo. Allora, duplico questo pezzettino. Solo il pezzettino dove il cantante dice la lettera che ci serve. Ok, so già che devo levare un po' di finale perché c'era I, quando l'ascolto, ancora c'è qualcosa. Allora, così dice solo EEEE, ecco. Con questo pezzettino qui, lo sposto all'inizio del brano in modo che lo metto dove ci serve per fare il reverse echo. Ok, la cosa da fare è andare negli effetti, inserire il riverbero, quindi waves, io uso waves through verb. Ok, metto il mio load e il lower plate e glielo metto alto. Tanto alto, perché il risultato è questo adesso. E mi sta anche bene. E ho tutto questo suono che è lunghissimo. L'altra cosa che faccio è, siccome è lungo, invece nel cantato andava calando, devo creare un effetto fade out. Metto un inizio e lo lascio al 0 dB, metto la fine e lo metto a meno, qua lo chiamo a meno 0 inf. Cioè, chiudo il volume. Ok, risultato. Ok, adesso che ho fatto questa cosa qui, non faccio altro che prendere questo campione qui, che è pieno di riverbero. Ho già impostato la barra del loop, cioè la regione. Se io adesso vado in loop, partendo dall'inizio. Vedete, fa tutto in reverse, è ciò che sto costruendo. E va in loop. Allora, so che questo è il pezzettino che voglio campionare. Allora, cosa faccio? Gli dico al sistema, prendi questo pezzettino, campionalo già con l'effetto dentro, cioè quello dell'eco. Allora, su option, aspettate, su tools, io ho render to new track. Vabbè, lascio così. Oppure, questo vuol dire che nella vostra DAV, che probabilmente non sarà la mia, perché sono pochi che usano ACID, però, avrete una funzione per dire, quello che sento va messo in echo. Cioè, va renderizzato e creato un sample. Allora, questo sample qui non ha l'effetto dell'eco, però ce l'ha incorporato dentro il sample. Scusate, così lo sentiamo solo. Ok, risultato è che mi basta fare il reverso di questo campione. L'unica cosa è che il finale è troppo alto, quindi per me farei una cosa del genere. Insert, nuovo volume. E quando arriva qui, posso o levare proprio il pezzettino. Quindi, mi lasciarlo così. Ok, mi basterebbe anche questo, è più che sufficiente. La cosa che posso fare adesso è, se ascolto il brano con questo suono, o meglio, vi faccio ascoltare solo questo suono. Quando arriva la fine, stoppa il brutto. Allora, non è bello così. Allora, si attacca un altro FX, cioè il riverbero. Nel mio caso, ho creato un bass per il riverbero generale del brano. Quindi, ci dà il bass del riverbero. Risultato? Eccolo qua che sfuma il finale del riverbero. Adesso, questo era il mio reverse che avevo creato prima. Lo metto in munto. Stop. Cioè, riabilito tutto. Non ascoltiamo il reverse che avevo creato io, ma quello che ho creato adesso. Assieme al brano. Ok, ho lasciato anche la traccia del pezzettino per il riverbero. Quindi questo va mutato. Ok, poi dopo ovviamente c'è da regolare i volumi, perché in base al brano era più alto, tutto il resto. Ma l'effetto del reverse eccio è questo. Per questo tutorial è tutto. Ci vediamo a un prossimo tutorial. Ciao a tutti.